Sei lì e aspetti quello delle 7.30 Chiuso dentro al tuo portone Un tizia legge attento alle istruzioni su Distributore del caffè E' un bambino che si tuffa dentro ad un Il mio E' l'orologio contro il muro Segna l'una e dieci da due anni qua Il nome di questa stazione è mezzo cancellato dall'amidità Un posteri di qualcuno già Segna l'avvocato vince e viene in Tunisia C'è un mare di velluto ed una barbetto che sogni di fuggire via E' un dare in lontano Alla prossima 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 Alla prossima